salve a tutti ragazzi bentornati o benvenuti sul mio canale e bentornati qui su ride4 iniziamo questo nuovo campionato la coppa stock 1000 in verità già vedete un po di spoiler perché avevo già iniziato a registrare tutti gli episodi poi mi sono accorto che il primo episodio l'intro non era stata registrata correttamente quindi mi pareva brutto buttarvi direttamente in gara così senza sapere che cosa stavamo effettivamente facendo quindi ho dovuto riregistrare nuovamente la parte iniziale ma ormai avevo già fatto tutti i video gli appuntamenti quindi già un po vi state spoilerando come andrà a finire insomma però purtroppo è andata così quindi iniziamo questo nuovo campionato con il primo appuntamento il tracciato di utah motorsport campus nelle sue varianti questa è la variante diciamo più piccolina poi più avanti avremo anche le altre varianti un pochettino più lunghe ovviamente come moto abbiamo la possibilità di scegliere la ducati che tra l'altro ho scaricato questa livrea fichissima dal workshop di di steam e già che c'era ho anche scaricato questa data e per la kawasaki tutti il livrea superbike fa veramente veramente figa la cosa quindi andremo di ducati perché insomma ci sta voglio vederla un po dal vivo anche come come spicca questa questa livrea tra l'altro poi nelle varie gare possiamo comunque andare a switchare di moto in moto perché non siamo vincolati all'unica modo che abbiamo recuperato ciò che abbiamo selezionato all'inizio quindi direi di incominciare tutto e andiamo in griglia di partenza ok direi di iniziare subito senza perdere tempo tracciata che comunque conosciamo e si non sta l'idea però è prende un attimo confidenza ora con le nuove potenze perché comunque abbiamo fatto io che partenza bruttissima abbiamo fatto questo tracciato con una moto decisamente inferiore per quanto riguarda la potenza e tra l'altro parlo ducati è anche molto molto ballerina e scorbutica dall'altro è una buona accelerazione ma bisogna restare attenzione ok teniamoci attaccati qua al gruppone attenzione a non fare non far danni scusa frate dobbiamo per forza di cose vincere quindi non perdiamo tempo rimaniamo attaccati anche al battistata che qua già sta prendendo un po di margine e quando ci sarà la possibilità sferriamo l'attacco decisivo tanto è non creare danni però vedete il tracciato che si snoda diciamo all'interno di quello più più grande che di riva merita non mi dispiace solo che è decisamente tanto grande tanto lungo e c'è tutta una sezione interna c'è tutto un susseguirsi di curve che insomma sono abbastanza impegnative che bisogna cercare di avere un buon un buon ritmo attenzione scusate ma scordo sempre che e vabbè magari quando riparto è il caso pure di iniziare a frenare ok devo regolarla un pochettino dietro da che da sto punto di vista capace chi era un po meno scorbutica comunque fine primo giro siamo per il momento in seconda posizione stiamo un po facendo gara a sé perché abbiamo comunque un po di margine da da chi ci sta seguendo sono un secondo e sei attenzione qua è giù così in carena andiamo ad attaccarlo qui sul dritto un po lunghetti lui infatti si riaffaccia all'interno ci risupera questa è l'apriglia bella pure la curiosità di provarla l'apriglia piano 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 ok e niente di passare avanti dopo il nostro primo tentativo ma ovviamente non sarà affatto l'ultimo quindi chiamo di prestare un po di attenzione più che altro perché ecco abbiamo una moto decisamente scorbutica potente ma abbastanza scorbutica in accelerazione quindi bisogna prestare un po di attenzione andiamo a chiudere meglio la curva rispetto a lui e sfruttiamo qua tutta la scia della nostra moto anche la maggiore potenza in accelerazione ripassiamo avanti alla staccata di curva 12 pensando abbiamo il posteriore che va a sartellare per quanta la potenza frenante sull'anteriore qui bisogna tenere un buon ritmo qua tutto giù in piega in accelerazione per queste curve veloci forse un po troppo andiamo a chiudere qui la corda e cerchiamo di stroncare subito su nascere eventuali suoi contrattacchi anche se abbiamo già guadagnato un bel po di margine quindi cerchiamo di guidare bene e portiamoci a casa il il risultato lungo qui una c'è l'asfalto che possiamo mollare un po i freni prossimo giro questo è la prossima parte centrale infatti si è rifatto sotto ecco all'ultima curva stiamo più attaccati al cordolo e poi spalanchiamo abbiamo una buona accelerazione da questo punto di vista e riusciamo a guadagnare un bel po di margine e occhio che possiamo anche magari pensare un po meno siamo tutta la vista a nostra disposizione siamo nel penultimo giro vada stava partendo come non mai riuscita a recuperarla ma che che spavento ragazzi è sempre dietro eh abbiamo perso per un bel po rispetto al nostro best la moda che ha spacchettato in maniera paurosa dai giù così attenzione qui gira 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 accelera è traiettoria sbagliata qui più che altro devo provare a non togliere una marcia in più perché non non serve in verità non serve attenzione qui ok ultima curva e ultimo giro che inizia adesso per noi esistiamo questo ultimo giro alla fine comunque abbiamo migliorato eh l'ho guadagnato un bel po nelle parti finali malgrado il primo settore nettamente lento per quella per quel problemino qua nei cambi di direzione che vado a frenare scalando e inserisco la moto è molto molto scorbutica bene qui eh secondo e cento infatti abbiamo fatto decisamente meglio tutta la quella curva grande anche la staccata in frenata ora che ho capito come si frena in verità riesco ad essere anche un po' più aggressivo in fase di inserimento posso ritardare anche un pochettino in più la frenata qui facciamo scorrere bene tutto la la moto vorrebbe uscire un bel giro qua niente mi sbaglio sempre perché l'ha imposto come se fosse più più stretta di quello che effettivamente è quindi perdo un casino di tempo attenzione qui ultima curva andiamo stretti al cordolo e poi apriamo per la prima vittoria andiamo su una ruota attenzione andiamo a vincere la nostra prima gara ci sta ci sta ottimo iniziamo bene le gare sono comunque lunghe sono sei gare quindi ci sarà da da tribolare ottimo giro dai uno ventiquattro e zero zero tre non male non male come potenza beh 911 a quella 932 comunque con la ducati anche lui insomma alla fine al secondo c'ha 888 con l'aprilia quindi grossomodo non siamo neanche i più forti quindi ci sta comunque abbiamo dato un bel po di di stacco insomma dai secondi e terzi arrivati abbiamo guadagnato l'accesso al gruppo coppa millennium addirittura attenzione già il nome sembra interessante allora prima di salutarci ragazzi che ci facciamo un appuntamento a video giusto per renderli più veloci ehm guadagnato la coppa millennium quale cazzarola è la coppa millennium eh allora whereby candle qua purtroppo non ho ancora fatto le patenti quindi che è la coppa millennium exhibition ehm bridgestone trophy questo non l'abbiamo ancora fatto coppa cazzarola sta scusi whereby che millennium forse era questa non mi ricordo non mi è sembrato potesse essere questa però che se è così a parte che mi serve il dlc e non ce l'ho ma c'è scritto coppa millennium non lo so ehm no attività pilota no invitation qua coppa giapponesi coppa due cilindri non lo so o non la vedo io è qua ma non la vedo ah eccola qua per Catraia stava a fianco e c'ho gli occhiali per fortuna si coppa millennium sporto mille eeeh qua pure un bel po' eh cinque appuntamenti non ci sono moto in palio però sembra abbastanza il caruccia anche questa questa tipologia però noi concentriamoci su la nostra stock allora ragazzi per questo appuntamento direi che è tutto come sempre fatemi sapere la vostra in descrizione trovate link ai social network e in alto a destra la i che vi riporta alla playlist di ride 4 se vi fa piacere iscrivetevi al canale lasciatemi un messaggio e ehm cliccate sul pollicino in in su che mi aiutate un po' a crescere il il canale io vi saluto se siete arrivati fino in fondo e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao ciao